Buongiorno ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like e attivare la campanellina parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia fra 7-8 giorni quando secondo il modello europeo ECMVF attorno al 30-31 di marzo un'ondata di freddo di origine artico-marittima potrebbe scendere infatti avremo l'entrata della termica a meno 3-4 a 1500 metri di quota con una rientranza gelida in quota con piogge diffuse e possibili primi temporali al nord ovest proprio in questa fase ci aspettiamo rovesci nevosi fino a 400-500 metri di quota a causa dell'accumulo di aria gelida in quota quindi secondo il modello GFS il modello americano il modello ECMVF il modello europeo sembra possibile un'ondata di freddo polare tardiva con molte precipitazioni e nevicate fino a quote collinari come si vede da queste mappe avremo il ritorno di piogge anche abbastanza intense su buona parte dell'Italia grazie 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 grazie